Dopo l'acceso botta e risposta nei giorni scorsi sull'assenteismo in ama, l'assessore all'ambiente del decimo municipio Alessandro Ieva prova a smorzare le polemiche. Serviva un confronto con l'amministratore unico Zaghi se c'è stato, minimizza Ieva, che però ribadisce, la mia parola conta più di quanto qualcuno possa pensare, nessuno è titolato a metterla in discussione. In questo periodo ad Ostia è mancata la raccolta delle foglie, la polizia delle strade e dei marciapiedi, mentre lo svuotamento dei cassonetti è stato regolare. Purtroppo a queste criticità si aggiungono i contenitori incendiati che, oltre a creare un danno ambientale, costringono l'amministrazione a spendere i soldi dei cittadini. L'entroterra, servito completamente dal porta a porta, denuncia ancora l'assessore, ha subito disservizi nei ritiri, con il salto della raccolta delle varie frazioni, soprattutto dell'organico. Sono cresciuti inoltre i tempi di rimozione dei rifiuti attorno alle campane del vetro, non chiede lo spazzamento e diserbo di strade e marciapiedi, conclude Ieva. Stupisce che il vicepresidente del municipio non si renda conto che la situazione tale certamente non da oggi.